Alfredo Longo è il sindaco di Marugio, un luogo dove secoli fa si dice arrivarono anche i Templari, un territorio fantastico dove le notti senza luna le stelle sembrano più vicine, tanto per espirare un pizzico di esoterismo. Non capita ogni giorno di un intervento diretto da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per annunciare l'investimento complessivo di 200 milioni su 202 ettari sui quali, in la masseria storica e che porterà circa, così si dice, 500 dipendenti diretti che saranno utilizzati sia nel resort con annesso campo da golf a 18 buche che nell'azienda agricola. Un investimento e una prospettiva che il Ministro per le politiche di coesione, il PNRR Raffaele è fitto, porta a dire grande soddisfazione per il lavoro svolto, questo tipo di interventi dimostrano che la ZES unica è una concreta prospettiva di rilancio del mezzogiorno. Il sindaco Longo lanciava ieri nel collegamento nel Tg un concetto che finalmente serpeggia tra i nuovi amministratori, cioè quello della rete tra i comuni non più stretti nel campanilismo becero. Un investimento del genere dunque coinvolge come minimo tutta l'area orientale della provincia di Taranto e si allarga tutto il Salento. Fin qui le positività, ma un investimento del genere deve portare tutto il territorio a pretendere che la rete dei collegamenti stradali oggi a Spittica sia al più presto adeguata allo stesso investimento. Oggi ci troviamo al cospetto di limitazioni gravissime, collegamenti molto difficili con l'aeroporto del Salento, quello di Brindisi, ma anche con quello più vicino di Grottaglie. Per non parlare di Taranto, città che sembra lontanissima e invece è soltanto a 40 chilometri. La Grande Pertenza, la Bradanico-Salentina, la regionale 8, ma anche quella miriade di strade intercomunali, provinciali e regionali che attendono adeguamenti per la sicurezza di tutti. Una vertenza come quella portata felicemente avanti dal Movimento Regione Salento, proprio per la Bradanico-Salentina, accelerando così le procedure e raggiungendo l'obiettivo. Oggi, con i risicati finanziamenti a disposizione, è difficile porre rimedio. Ecco, alla Regione e al Governo centrale una richiesta unanime per adeguare il territorio all'importante investimento in arrivo.